E oggi un piatto super filante e gustoso. Prepariamo le patate con lo speck e il formaggio. Sbuccia le patate e taglia le a spicchi. Vale cuocere per 5 minuti dal momento in cui iniziano a bollire. Taglia a cubetti lo speck e anche il formaggio filante. Trita finemente l'aglio, la salvia e il rosmarino. Poi versale in un piatto assieme al pane grattugiato. Aggiungi un pizzico di sale e mescola bene. Quando le patate saranno pronte, scolale e versale nel pane grattugiato. Aggiungi dell'olio e mescola bene. In questo modo il pane grattugiato si attaccherà bene alle patate e saranno croccantissime. Versa le patate in una teglia. Regola di sale, di olio. Aggiungi i cubetti di speck e i cubetti di formaggio. Certificare di sale per 5 minuti dal momento in cui iniziano a ricche. Metti in forno statico già caldo 180 gradi per 25 minuti Servi le calde e filanti